Mira la porta, ma la mette su Salcedo, dentro Peschirò! Cosa ha preso Russo? Già esultavano sugli spalti. Chi scivola, non c'è fallo, arriva però Zabo, perché si era addormentato lì Rodic su quella palla. Poi Schirò però, tunnel di Schirò su Cleonise. Se ne va Schirò, Schirò subisce nuovamente il ritorno di Cleonise. Gli applausi del vero di Sesto San Giovanni per il tunnel di Schirò. Una partita combattuta, una partita molto equilibrata. Ricomincia da dietro il Genoa, all'Inter ha recuperato il pallone, Schirò! Schirò! Schirò traversa! Incredibile la traversa di Schirò.